Sindaco, questo incontro con Eni per delle problematiche relative al suolo, microsismicità e subsidenza, cosa avete tratto da questo incontro? Eni ci ha chiesto di separare un po' gli argomenti che avevamo messo e avevamo richiesto in modo specifico di trattare. Diciamo che più o meno un mesetto fa, 45 giorni, avevamo chiesto di incontrare Eni per discutere di bonifica, per discutere della convenzione Eni-Onica Cassa, Crotone è nota sotto questo nome, il famoso Cassa d'Evettoriato per capirci, per parlare anche dei rifiuti interrati in città, danno ambientale. Loro ci hanno chiesto di avviare dei tavoli separati e ci sta bene. Quindi oggi abbiamo discusso di questa subsidenza, di questa microsismicità, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della situazione attuale, quindi analizzare la situazione di partenza, quello che è stato fatto e quello che si dovrà fare. Quindi dal punto di vista scientifico, loro stanno elaborando i dati già da un bel po' di tempo, quello che dovremmo fare è di controllare questa attività di monitoraggio. Quindi è chiaro che siamo preoccupati, sono preoccupato del promontorio di Capocolonna. Quest'autunno abbiamo visto in maniera drammatica alcuni crolli che ci preoccupano. Per quanto ci riguarda, questo aspetto legato all'erosione costiera, che è così evidente, non è escluso che possa essere indotto dall'estrazione del gas. Loro dicono di no, ma ripeto, in altre parti ci sono studi che indicano questa correlazione. Li avete trovati un po' impreparati? Guardi, se posso usare questa domanda. Guardi, impreparati, no, loro sono sempre preparatissimi. Solo chi ha conosciuto Eni sa che su ogni argomento mandano i tecnici, mandano le persone competenti, mandano i legali. Quindi di solito siamo noi che siamo un po' impreparati. Ma ripeto, qui il punto di partenza deve essere una convenzione che era scaduta, che riconosceva un danno all'amministrazione comunale. La convenzione che sottoscrisse nel 2008 il sindaco Vallone è scaduta nel 2011. Allora avremmo dovuto avere 6 miliardi di metri cubi standard di gas devettoriato. Non ne abbiamo utilizzato nemmeno un metro cubo di gas. Oggi la produzione, a leggere i dati, è sensibilmente ridotta. Loro questo l'hanno fatto presente. Però, ripeto, adesso si tratta di discutere di dati scientifici, di costituire un comitato tecnico. e in questo comitato il comune di Crotone dovrà dire la sua.